E' un'altra serie pronta ad iniziare a registrare insieme a voi su play 4 Spero che vada bene Diamo forza E devo mettermi avanti per quello che ho detto con la frase lì Ok lo scorso episodio è stato tipo L'avrò intitolato Terrore nell'abisso secondo me Io ho i titoli lì da sempre un po' mentre edito il video Quindi è stato un episodio veramente molto bello a mio parere Ora andiamo a vedere che cosa ci Che come si evolve questa storia Perché fondamentalmente noi sappiamo ben poco Sappiamo che noi dobbiamo scappare da dei tizi mascherati Ecco è che stiamo per morire C'è un tizio qua Ehi la No Ok Secondo me dobbiamo usare quello della testa sapete Ho questa sensazione Siamo sicuri raga che non ci tirava su quel lavoro là? No Perché so mi tocca rifare tutta la trafila qui Ma non è molto simpatico come cosa Ok qua c'è un interruttore forse serve per Come si fa qui? Ma sono delle esplosioni raga Aspetta Non si può fare nulla raga con questo interruttore No Comunque sono esplosioni queste Ok forse adesso si può fare qualcosa Cazzo c'è della gente qui 19 Perché 19 E ora? E' un ascensore raga Stiamo andando in superficie Ah io adesso provo a andare qua a destra Però mi sembra un po' troppo illuminata Sto posto Sto posto qua No qua Qua non riesco ad andarci Bisogna capire che cosa voglia dire Quel 19 lì eh Adesso siamo al primo piano Ovviamente cioè Piano sì Primo piano Ovviamente Secondo qua non si può fare un gazz O molto semplicemente Come al mio solito Faccio il 50 e 50 Sbagliato Ok Vedete? Non si può fare un cazzo qui Salto non fa niente Vestra Sinistra Indietro Non si sposta Ok dobbiamo andare al piano meno uno In pratica Perché qua siamo al piano No meno due No qua siamo al primo piano Piano terra meno uno Basta Gabbo insomma No ancora Ok Vai giù vai giù vai giù Vai giù Bravo Andiamo a vedere cosa c'è qui Mi ricordo sempre che c'è una porta La sinistra in fondo Ma secondo me ormai è fatta quella Minchia se va giù raga qua Adesso provo andare prima a sinistra Voglio vedere Visto che Se non c'è un cazzo raga Io non ho parole veramente Allora qua c'è una corda intanto Non sembrano esplosioni Sembra qualcuno che cammina Io questo mezzo qua Non lo potrò mai spostare Tutta la mia vita Ovviamente Ovviamente non si può Fa un cazzo qui Però si sposterà Bisogna vedere come Sicuramente per andare lassù Non si può Un po' enigmatica sta cosa Allora raga se si può fare qualcosa A destra mi incazzo Perché non è possibile Che io sempre Con i 50 e i 50 Lisci così tanto Non ci posso credere raga Non ci posso credere Cosa vado ancora laggiù qua Eh qua si stanno mettendo in mezzo Troppe cose raga Ok Stanno mettendo in mezzo Cazzo non posso neanche più tornare su Raga ma sono ando troppo lontano Mi sa Ai Eh vedete adesso devo andare là E devo probabilmente Muovere questi tizi Come faccio a salire Ok vai 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 Il mio istinto mi ha detto Di far così raga E non ho sbagliato Fortunatamente Vai vai Cosa voleva dire quel 19 Che sono solo ambientazioni Eh no vedete Non posso far un cazzo qui Ah no 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 Posso andare su Ok forse si inizia un attimo A A concretizzare qualcosina Uno Due Oh A pelo raga A pelo pure qua No qua un po' meno Ok Oh c'è che questa casca No Strano Strange Anche questa Vabbè che sono leggero Meno male Ok signori Qua si inizia a Vedere che cazzo fare qui Oh merda Mi seguono? Si Perfetto Allora sapete adesso cosa vi dico? Vi dico che mo Andiamo a spostare Ah che mi aiutano a salire Ok perfetto Non si può andare a salire A spostare quel tram la C'è quel carico Aiutatemi raga Bravi Dai meglio Meglio Bravissimi Che carino Seguitemi raga Mi state seguendo? Si bravi Però non saltano Ok Occhio Non cadete giù Vi prego Dai 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 Adesso dobbiamo andare a spostare quel camion La Ok Bravi ragazzuoli Torniamo su Oh Cazzo mi fate cascare Andiamo E tutti questi tizi qua Devo portarli poi su Che figata Bello che sembrano tipo zombie Allora Non so se spostare Prima quel camion là O farmi salire sopra di là Adesso io provo a spostare questo camion qua Che secondo me ci riusciamo raga Siamo in 1 2 3 4 5 6 5 e mezzo E fatti La stiamo facendo Però non so se serve per Non so cosa può servire Io adesso lo metto là Perché c'è una fessura Ok Perfetto Adesso mi state sentire raga State cani e boni Che adesso io Faccio così Guardate Andiamo a vedere qua Se c'è qualcosa No No non me lo dovevate spostare Stupidi cani Che non siete altro Siete degli stupidi Mongoloidi Allora Perché lo spostano da soli Secondo me Non c'è bisogno Che io prima B Ok Allora salto giù direttamente Così tipo Ok Ok Forza 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 Da che non mi servite più Merdi Posso salire di qua Sì C'è una scalettina piccolina Per me Ok Mamma mia Mi fa impazzire sto gioco È troppo bello Non pensavo Non pensavo Mi sono curioso di giocare a limbo A sto punto Si dicono che è bello anche quello Mancapo lavoro assoluto Ok Faccio che questo qua Adesso va su Poi dopo salta E poi torna giù Ah no Ok ho capito Ok ho capito Ho capito Ok Così Così va un po' più su Perfetto Ottimo Ora vi comando io Merde Ok Non so perché Ma ho come Sentimento Il presentimento Che dobbiamo tornare indietro Speriamo Perché se no È un po' un casino E vediamo Cosa c'è da fare Cadete tutti Bravissimi Ok Ora siamo in Un po' di più Di persone Ok Mamma mia Che esercito Raga Il mio esercito Di zombie O di cose Che non ho ancora capito Sinceramente Allora mi sa che Quello lì Non mi serve più Ad andare su Adesso dobbiamo andare Secondo piano Anzi Piano terra Adesso siamo almeno uno Ce la faccio mica raga Ok Prova ad andare a primo piano Vediamo che cosa si può fare E levati Anzi Tiratemi su Merdi Tiratemi su Merdi Aha Chi è il vostro king? Chi è il vostro king? Bravi Che non mi avete fatto cadere Ok Qua abbiamo il 19 Oh Altri due Ne abbiamo presi Raga Ah Vedete Servono Altri 9 uomini Servono 20 uomini Servono adesso E beh sì Allora dobbiamo andare a prendere Altri 20 uomini Cioè no Siamo Altri 9 uomini Dovemo andare a prendere A recuperare Ora andiamo a vedere qua A sinistra Cosa è Ce n'era uno là E sicuramente Quello là in fondo E sicuramente Tutte queste persone qua Riescono a tirarlo su Col cancello Andiamo a prenderlo Eccoci Vai tira su gabbo Aiutatemi raga Ok Ce n'era solo uno qua No non ci credo Non penso Secondo me ce n'è un altro Ragazzi Allora venite su Aiutatemi Venite Ai Mi sa che non vogliono Allora sapete cosa vi dico Visto che non ci arrivo normalmente Secondo me così si Altri 3 Come faccio a prenderli però Speriamo di nuovo Di nuovo a fare tipo Una sorta di Roba del genere Ok Pensavo fosse una stronzata raga Invece è vero Bisogna fare proprio così Ok raga Adesso non so in quanti siamo Però penso che 9 Non abbiamo preso Mi abbiamo preso altri 4 Ora non ci resta che andare Al primo piano Allora visto che siamo qua Vediamo in quanti siamo 4 ma secondo me Io non servo raga Ho come sta sensazione Che io non devo esserci là Ok siamo al primo piano Vediamo a sinistra cosa c'è Ah no a sinistra c'era Eh beh ci posso arrivare adesso eh Ok qua ce ne sono altri 3 Quindi poi ne manca uno Che sarà sicuramente a destra Eh Ah no bisogna Bisogna spingerlo giù Merda Non sono morti Cioè in teoria dovrebbero essere morti però Sì non si poteva tirare Verso destra raga Perché c'erano i mattoncini Andiamo a vedere adesso Ce ne dovrebbe essere uno E poi siamo a posto A meno che non servo anche io in mezzo Figata però che con sta cosa qua Potete controllare la gente Allora 20 vedete Guardatemi su Ok Spettacolare raga Cioè Qua ce ne è uno Su Ah dobbiamo tirare su un morto Ah beh si Perché tanto è direttamente lì giù la passarella Quindi Fa comunque il peso di uno Ok Guardate che mi prendono Mi suppone che carini che sono Ok Andiamo giù dai Non so se è primo piano Cioè se è piano terra No secondo me raga Non è di qua Allora fammi pensare Come c'è qua a sinistra Sì si può darsi che siano qua Lo spero perché torna fin giù raga Sinceramente Tira un po' Eccola là Sono morti però eh Ovviamente Sono morti No Solo uno Neanche uno Perfetto Siamo tutti qua ragazzi Andiamo Abbiamo terminato questo compito E mamma mia che spettacolo Non avrei Infatti vedevo tutto questo casino qua Poi è stato facile Di congiungere i puntini eh È stato molto semplice Adesso andiamo sulla passarella Ci andate voi raga Perché secondo me Io non servo Ok state lì Bravi Due Ah no servo anch'io Ok Ciao ragazzi È stato un piacere Eh Sì sì no Sono esplosioni raga Non è un qualcosa che cammina Sono esplosioni Merda E secondo me bisogna stare attenti All'onda d'urto Cazzo Eh sì Dobbiamo stare molto attenti All'onda d'urto Ma tipo Dobbiamo stare qui No no Aspettiamo l'altra Ok Sennò volo giù raga Dal ponte Qua c'è questa cosa da fare Ok Cazzo qua non c'è Eh vedete Cosa devo fare Allora Vai 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 Due Tre Quattro Cinque Ogni cinque secondi Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Ho capito Vai Fatto 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 Vai 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 Via Sì che cazzo sono ste esplosioni raga Cosa sta roba Qua non mi ammazza vero Sì mi ammazza Devo seguirlo Non devo farlo Non devo farlo star fermo Era solo una distrazione quella No Ma è più veloce di me raga È più veloce di me Vai forse ce l'ho fatta raga Ho dovuto stopparlo Infatti è cambiato anche la musica Ho dovuto praticamente stopparlo un attimo E farlo andare Avete visto sicuramente ve l'ho messo Cazzo però sono un coglione Un coglione Dio santo Però spero che mi abbia dato il checkpoint almeno Perché non è facile No Ok Facciamolo saltare un giro A metà dell'altro Uno Due Vai Ok Ok Vai Ok Vai No che sfiga Per pochissimo Ok Adesso va bene raga Dovrebbe andare benissimo adesso Vai 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 Ok ce l'abbiamo fatta È stato molto molto complicato Perché guarda qua c'era proprio di un secondo Mamma mia Qua ci ammazziamo ancora Ok No Sono stato troppo presto Mamma mia Stavo per morire raga Ok Oh Cazzo Cazzo raga È malato Comunque questo gioco a volte Sembra proprio malato Aia Come mai Lo scopriremo alla prossima puntata signori Io vi saluto Vi ringrazio qui da Gabo di Square È tutto Lasciate un mi piace Un commento Ditemi cosa Vi è parso di questo episodio Mi è sembrato molto molto bello E Fatemelo sapere ragazzi Like commento Snapchat capito Tino basso Gaiba Bella raga